Quindi io vorrei pregarvi di fare un applauso a questa fantastica orchestra. Un'orchestra favolosa, forse non avevo mai sentito un'orchestra così vigorosa, così piena, così armoniosa. Il direttore è fantastico. L'orchestra è stata meravigliosa, diretta da un maestro come si deve. Insieme ai gruppo Gorelli ci hanno dato vita a uno spettacolo incantevole e pieno di vita.